guardate lì potete notare il primo fantasma lì nel balcone guardate che si affaccia potete notare all'embarco è una merda al minitello costruiscono le tombe le tombe questo è proprio arrovinato il museo la scultura stessa sto rovinando la mia stessa immagine io mi sono rotto bene salve a tutti comunque diciamo che questa è una piazza non era il cimitero sembra di stare al cimitero sembra un cimitero a posto di essere al minitello hanno adattato il cimitero vicino alla piazza è pronto a difendere il signor franco vi presento se io per esempio dovrei aggredirlo un maestro dell'arma bianca stiamo facendo un video sulle bellezze sulle perle di saggezza no prima no ecco in dentro ha ridossato lì salve a tutti